In questo video spiegheremo come eseguiamo la verifica degli attuatori del freno che sviluppiamo a Coiali. Questi attuatori e le camere del freno sono vitali per garantire la sicurezza e la stabilità nel sistema frenante. Quando bisogna generare un'elevata potenza frenante, è necessario che i componenti interni funzionino in maniera ottimale. Per questo motivo, nel team di ingegneri elettrotecnici abbiamo sviluppato un banco di verifica specifico per questi prodotti. Questo banco ha un motore elettrico collegato a un mandrino guidato, che fissa la posizione del perno, e una cellula di carico che misura la forza di spinta generata dall'attuatore. Inoltre, grazie a un controllo completamente automatico, i dati del motore e dei sensori vengono raccolti e mostrati in un grafico semplice e preciso. Questo tipo di automatismi ci aiutano ad assicurare che il nostro prodotto rispetti i criteri di accettazione stabiliti dalle normative SAI Lunga 1469 o DIN 74060. In seguito a questo controllo, i nostri attuatori sono idonei ad essere montati sul veicolo, assicurandone la durabilità e un funzionamento ottimali.